Sta arrivando per noi, questa sera ce lo buschiamo tutto e solo per politia Gianni Prezzosi Grazie Allora, vogliamo fare sentire il nostro calore, è il maestro Gianni, appena sera sul palco, signori, un grandissimo applauso, uno, due, tre, signori Gianni, eccoci! Buonasera, Massimo, ballissimo, buonasera, sulle mani, buonasera Massimo, se potremmo avere un po' di voce che abbiamo isolato, grazie, come va? Tutto bene? Sulle mani, se viaggi le tastiere, Massimo, per favore, grazie, buonasera anche a voi, buonasera, Massimo, buonasera, 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 grazie Massimo, grazie, 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 grazie. Buonasera a voi da sotto, ci possiamo alzare le tastiere, per favore, buonasera Palumbo, per la sua casa, del nostro, del sabato, ci possiamo alzare le tastiere, grazie. Buonasera a voi da sotto, ci possiamo alzare le tastiere, grazie, 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 grazie. Vandagolozza, sarendo nebbene Sendio, ammurdu, vabbè, vabbassuriz Aynı saati di paaschera, le loro Sondrò, gizal, cinse Vandagolo, durmurdu, vabbè, 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 vabbè Unut siri, cava, vabbè Grazie a tutti 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 Grazie a tutti